Posso ripassare? Intanto mi tocca veramente spiegare due parole su queste due partite che abbiamo fatto all'unico con 14.000 persone. Devo ringraziare il pubblico perché si è sentito e ci ha affascinato in momenti importanti, in momenti difficili. Credo che è andata una grande scorsa, una grande energia a tutta la squadra che ne ha beneficiato. È stata veramente un'esperienza molto bella di cui il pubblico è stato protagonista e ci ha aiutato tanto. Adesso torniamo al nostro fortino, torniamo al Paladoza a partire da mercoledì dove c'è una partita che abbiamo dominato all'andata, ma che diventa per questo momento per noi molto importante, per mettere un sigillo alla qualificazione di Champions League e spero di sia una grandissima partecipazione come è stata oggi perché è veramente stato un uomo in più in campo. Lo si dice sempre in maniera così molto banale, ma quando poi lo senti davvero capisci la differenza. Detto questo credo che abbiamo giocato una partita molto difficile perché quando tu recuperi i giocatori da un lato pensa e adesso ce li ho tutti, ma in realtà quei giocatori non sono così in forma, non sono tanto allenati e li aveva messi in campo lo stesso, aveva dato minutaggio a tutti, ha fatto 25 minuti Pietro Radori, ha fatto quasi 20 minuti Kelvin Martin, ha fatto 12 minuti Brian e quindi è stata una buona divisione di minutaggi dove non si è superata una certa soglia e nello stesso tempo però gli abbiamo dato un po' di allenamento. La squadra adesso ha bisogno di allenarsi, io ho bisogno che la squadra si alleni perché all'interno della stessa gara abbiamo degli alti e bassi che prima succedevano molto meno perché prima ci allenavamo intensi per due ore, adesso abbiamo un paio di settimane che per circostanze ci alleniamo a gestire, quando ti alleni a gestire proprio poi la benzina finisce, bisogna avere la forza proprio per la squadra di rimettere grande intensità per due ore con tutti quanti, con grande rotazione e soprattutto con un'elevata intensità nell'allenamento che rispecchi proprio la partita. Detto questo è stata una partita tosta, molto difficile, tatticamente ha visto tante situazioni, in molte ci hanno visto i vincenti, in qualcuno l'abbiamo persa, ci hanno visto i vincenti nel mettere ad attaccare i cambi sistematici loro con 5 allargando gli spazi contro l'interno che attaccava Mico, ci hanno visto vincenti in qualche situazione con 4 sul ribaltamento nel passare la palla, ci hanno visto perdenti quando prendevamo qualche tiro con un cattivo bilanciamento perché hanno regalato a me una decina di punti in contropiede un po' come degli, un po' ingegui, ecco a dire la parola, però c'è stata l'edizione da parte di tutti e credo che le ultime azioni al di là dei canestri fatti ci hanno dato tanto sotto un aspetto di difesa e di mettere il corpo. Non mi piace parlare dei simboli, non lo faccio quasi mai, adesso permettetemi di essere contento per Calvin Martin, ancora più che per Pietro, perché Pietro alla fine è stato fermo ma insomma sapevamo che cosa era un dolore leggero, invece Calvin era tanto tempo, era molto più difficile, devo dire che malgrado solo i due punti fatti e un 0 su 2 da 3 che erano anche importanti i belli liberi, devo dire che ci ha berrato un po' la faccia nei momenti importanti di quando Urano non fai di far canestro e lui ci ha un po' guidati sotto questo aspetto ed è quello che io vorrei vedere sempre a questo gruppo. Tornando agli episodi che citavi appunto nella gara, l'impressione che sia stata una Virtus che aveva avuto anche la pazienza di leggerle, nel senso la prima parte di gara in cui spesso andavi dai lunghi, trovando anche ottime cose, l'antato da Kradic, molto buone da Bacconi, e poi nei finali invece creare gli isolamenti per Taylor che si è soprattutto sfogare, diciamo. Ecco, queste situazioni intrammezzate da un terzo quarto, comunque nel campo difensivo, diciamo, la tua lettura, le tue analisi? Io credo che sia stata corretta l'autoanalisi, credo anche che sia stata corretta la lettura che la squadra ha avuto di queste cose. Brian all'inizio è inciso, poi piano piano è un po' carato, non l'abbiamo più trovato sui cambi difensivi, abbiamo allargato un po' il campo, siamo andati un po' nel Baie, siamo andati un po' Tony che attaccava, è stato bravo Pietro a farsi trovare negli angoli per due canestre, quindi su un aspetto completamente offensivo io dico che siamo stati bravi, ecco, voglio pensare a un motivo del blackout difensivo, il fatto che rientriamo il ritmo gara un po' stato perso, cioè terzo quarto abbiamo preso due o tre canestri di un rientro difensivo veramente imbarazzante, però quando l'abbiamo messo a posto poi siamo stati tosti e duri e secondo me l'alternanza l'alternanza della difesa uomo con una difesa zona con dei cambi ci ha dato molto, abbiamo subito e bisogna dire bravo loro che a un certo punto l'ho dovuta togliere perché mica che sembrava che fosse così l'oggetto misterioso di questa squadra, quello con poca fiducia, sui cambi ci ha fatto due o tre canestri di alto livello, la squadra è stata molto brava da andare da lui, cosa che non era stata capace nei primi minuti quindi è stata anche una bella partita a scacchi, sono stati bravi, sono stati bravi a rientrare per mettere un po' di sfiga anche per fare 1-3 con l'ultimo pallone, sbagliamo noi per prendere la bomba all'ultimo secondo, ci sono ballati 5 punti lì, in quelle cose non siamo mai killer, sono sempre un po' di sfigatini di turno e invece dovremmo essere bravi ad avere un po' più di capacità di alzannare il momento finire il terzo quarto pari, finire il terzo quarto più 5 con il pallone in mano, credo che qualche cosa cambia abbiamo visto per prezioni Martin su Mica, in caso? no, quando abbiamo fatto dei cambi difensivi, abbiamo fatto dei cambi difensivi perché noi dovevamo prendere il canestro ci stava, mi sembra un ottimo giocatore questo Cunningham che attaccava in questa maniera a un certo punto quando prenderà il vantaggio sul pic and roll, anche con una piccola separazione riusciva a puntare il nostro lungo e fa gli canestro, ora abbiamo voluto fare dei cambi difensivi sotto questo aspetto ed è chiaro che ogni tanto in questi cambi qui veniva poi il fatto che il nostro esterno marcasse un lungo a noi ci andava bene, per dire la verità in due occasioni Kermin ha difeso bene e in due occasioni quindi Mica ha fatto canestro uguale giocando col corpo, quindi è stato molto bravo lo rifarei sinceramente, è stato più bravo l'attaccante al difensore ma con una scelta corretta bene, è in arrivo questo nuovo giocatore, questo Moreira, che tipo di utilizzo avete pensato? in che senso? in che senso? in che senso? sarà più titolare, sarà un cambio tra le allotazioni dei lunghi, non so ah ok beh intanto sarà un lungo di più, questo già mi da molta tranquillità perché oggettivamente non è facile Brian ci sono un po' di difficoltà di gestione su Brian, quindi vogliamo mettere una forza nuova, molto fresca un giocatore abbastanza atletico, un giocatore abbastanza con intensità poi dopo è chiaro che sarà il campo a darci se lui sarà col titolare o col non titolare sicuramente ci sarà anche una rotazione tra i tre lunghi perché vediamo le condizioni mi piacerebbe che Brian prendesse una condizione buona per poter poi essere in campo e non dover spezzettare cioè io ci tengo molto a partire di mercoledì perché se noi vinciamo poi possiamo permetterci anche ogni tanto di dire forse le partite rimane il copreparatore, lavora, fa un lavoro a parte e andiamo avanti con gli altri poi è banale dirlo, non si può sapere prima, certo di se Cravi c'è quello di questa sera è una cosa, se è quello che abbiamo visto a Trento è un'altra, ecco, quindi anche Brian è normale nel suo processo di crescita di partite così importanti che si alberano dagli alti e bassi, però insomma mi è sembrato che insomma ci hanno visto schiacciare con quella forza, con quella potenza e anche conquistarsi un pochino del territorio penso che sia una sana competitività che entri tra i tre lunghi però diciamo che l'idea di base è quello di poter dare tempo a Brian di fare un processo che sia molto allenante per arrivare pronto alle partite, oggi lui ha fatto una buona partita per il primo, finchè non è uscito poi dopo ho avuto un po' di difficoltà, perché? Perché è tanto tempo che comunque è stato un po' di allenamento quindi essere un giocatore in più, speriamo che arrivi il prima possibile, speriamo che sia quello che noi abbiamo in testa cioè tanta energia, tanta difesa, tanta corsa, tanti rimbalzi e poi dopo cercheremo di trovare sempre la combinazione giusta tra i tre lunghi, se dovessi esserci un altro straniero che ha problemi, sapete già però è chiaro che in Coppa possono giocare tutti possiamo andare in sette, il campionato no dai finnati sembra più un Karevic che un Poli, dai finnati no, è un giocatore, io non l'ho mai allenato e non ci ho mai giocato contro, però l'ho visto un sacco di partite è un giocatore molto in movimento, è molto di corsa, è molto bravo in difesa su pick and roll molto bravo ad aiutare a recuperare, in difesa è un buon giocatore, in attacco sull'elifone anche molto bravo a passare la palla sullo short watch, in posto di sguirare fino in fondo prenderla, diciamo sulla lunetta, perché ha questo continuo gioco in movimento diciamo che è giocatore che abbiamo pensato ci potesse dare un po' più di vitalità, ecco di vitalità, di energia e speriamo che sia qualcosa che ci possa aiutare notevolmente, possa aiutare anche i nostri lunghi cioè io ho molte discussioni sul fatto che allora c'è uno bocciato e uno promosso non è uno bocciato promosso, è una giunta in più che alzerà la competitività e soprattutto non ci fa abbassare la soglia degli allenamenti che da due settimane, sono onesto, loro si allenavano benissimo, però si allenava più in infermeria ecco, e in questo ho lasciato infinire la conferenza, vorrei ringraziare, perché se no ne sempre sono l'allenatore a parlare vorrei ringraziare il mio staff medico e dei preparatori perché veramente non si sono risparmiati mai tra mille massaggi, mille terapie, mille lavoro al di fuori da tutti quanti, dal dottore, dai vari componenti, dai fisioterapisti, dai due preparatori quindi hanno fatto veramente un gran lavoro e io spero che adesso la Befana ci abbia portato finalmente la squadra a completo che possa riprendere il cammino che si è interrotto da gruppo di foto a posto? ringrazio grazie scusate, allora, come ha detto il corso, c'è tante persone con queste due partite io l'ho mandato quasi a tutti, credo che l'abbiate già perché l'ho mandato su lozario comunque qualcosa